non ce l'ha fatta l'anziano ottantenne che ieri mattina è stato investito all'altezza del terminal di Campobasso in utili soccorsi ieri sera il suo cuore ha cessato di battere duro colpo allo sfruttamento della prostituzione sulla statale sedici adriatica da parte dei carabinieri sul confine tra la provincia di Foggia e l'agro di Campomarino un arresto e diverse denunce Celeste Caruso poliziotto di quartiere di Sernia libero dal servizio salva la vita ad un bambino colto da crisi epilettica debito di 86 milioni di euro per i contributi previdenziali post sisma sospesi agli ex dipendenti Asrem ancora scintille tra Iori e Toma scorretto umanamente e istituzionalmente l'accusa dell'ex governatore il problema c'è e non è stato creato da questo governo chiederò la rateizzazione la replica del presidente della giunta scongiurare una nuova itr l'appello dei lavoratori della unilever che attendono l'incontro di lunedì tra regione e azienda intanto il vescovo cibotti domenica celebrerà messa davanti ai cancelli dello stabilimento infine lo sport il calcio di serie di campo basso atteso dal big match delle romagnoli contro il pineto zammarchi sono forti bisogna dare il cento per cento un pezzo di molise a vasto barrea e santone collaboratori di silva futsal circolo la nebbia accus morise di scena rossano sporting venafro a capulso chaminade contro l'aquila buon pomeriggio buon pomeriggio ben trovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di campo basso in apertura c'è la cronaca lo avete sentito dai nostri titoli non ce l'ha fatta l'anziano ottantenne che ieri mattina è stato investito all'altezza del terminal di campo basso inutili soccorsi ieri sera il suo cuore ha cessato di battere allora tutti i particolari nel servizio di cristina nero è morto l'anziano di 80 anni investito ieri mattina da una fiat punto all'altezza del terminal bus di campo basso troppo gravi le ferite riportate nell'incidente a nulla è valsa l'operazione chirurgica a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio a causa del trauma cranico in serata il suo cuore ha smesso di battere le sue condizioni erano parse subito gravi già all'arrivo dell'ambulanza del 118 il codice di ricovero infatti è stato quello massimo il rosso ma fino all'ultimo i medici dell'ospedale cardarelli hanno tentato il possibile per salvarlo senza purtroppo ottenere il risultato sperato alla guida della punto c'era un uomo di 74 anni come prevede la leggera la procura aprirà un'indagine per omicidio stradale a carico dell'automobilista che l'ha investito e che avrebbe provato ad evitarlo senza però riuscirci a quanto pare l'ottantenne stava attraversando fuori dalle strisce pedonali ma chiarirlo saranno gli accertamenti della polizia municipale che è intervenuta sul posto purtroppo gli investimenti sulle strade molisane stanno diventando fin troppo frequenti nell'ultimo mese sono stati ben quattro quelli mortali uno a vinchiaturo a santo stefano e due a termoli il 27 dicembre e il 3 gennaio scorsi con la cronaca termoli carabinieri a sirene spiegate nel centro della città questa mattina per concludere la prima fase di una importante articolata indagine finalizzata allo smantellamento dello sfruttamento della prostituzione che veniva esercitato lungo la statale 16 dalle zone di confine della provincia di foggia all'agro di campo marino ad operare i militari della compagnia di termoli con il nucleo operativo e radiomobile insieme ai colleghi della stazione di campo marino nel corso del blizza ancora in corso peraltro con ulteriori accertamenti sarebbe stato arrestato un uomo e spiccate diverse denunce restiamo in basso molise in seguimento sulla statale 16 nei pressi di campo marino i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di termoli hanno intercettato a notte fonda un furgone che transitava a forte velocità in direzione sud il conducente del veicolo alla vista della pattuglia ha accelerato bruscamente sperando di sottrarsi al controllo ne è nato un breve inseguimento che si è concluso dopo pochi chilometri nei pressi del confine con la i carabinieri hanno costretto il furgone a fermarsi gli occupanti del veicolo dopo aver abbandonato il mezzo si sono dati alla fuga dileguandosi nella fitta vegetazione circostante la sede stradale il furgone invece è risultato rubato poche ore prima da un'azienda di vasto all'interno quattro quintali di rame sottratti illecitamente dalla stessa ditta tre passamontagna e vari attrezzi per lo scasso i militari ritengono che i soggetti intercettati fossero parte di una banda ben organizzata che metteva a segno furti sulla costa adriatica il furgone e il rame sono stati restituiti al proprietario Celestino Caruso un poliziotto di quartiere di Isernia libero dal servizio ha salvato la vita ad un bambino colto da crisi epilettica il piccolo era tra le braccia del padre nel centro storico privo di sensi e con la mandibola serrata l'uomo stava richiamando l'attenzione dei passanti con urla strazianti Caruso immediatamente accolto la gravità della situazione e dopo aver stabilizzato i parametri vitali del bimbo ha fermato un'auto di passaggio ed ha condotto il piccolo all'ospedale imboccando Corso Marcelli contro mano per velocizzare le operazioni di soccorso i sanitari hanno preso in cura il bambino che superata la fase acuta è stato ricoverato per accertamenti una storia a lieto fine grazie alla freddezza e dalla lucidità del poliziotto di quartiere Celestino Caruso che vedete in questo scatto insieme ai genitori e al piccolo che è riuscito a salvare nelle ore successive si è sincerato delle condizioni del bambino andandolo a trovare in ospedale come vedete appunto da questo scatto sembra un paradosso ma è stato scritto nel registro degli indagati per omicidio stradale l'autista dell'ambulanza che colto da infarto rimase coinvolto in un incidente lungo la statale 17 mentre stava trasportando una donna in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli di Campobasso la signora residente a Roccamandolfi dopo tre giorni dall'incidente è deceduta sul caso la procura ha aperto un fascicolo per poter ricostruire nel dettaglio l'accaduto l'episodio risale al 12 dicembre dello scorso anno l'autista residente in provincia di Isernia era la guida dell'ambulanza con a bordo la paziente e l'equip del 118 improvvisamente mentre viaggiava in direzione Campobasso colto da Malore perse il controllo del mezzo che si schiantò scusatemi contro un muretto all'altezza dello svincolo per San Massimo è rimasto per sei giorni in terapia intensiva ed in prognosi riservata la donna invece arrivata al Cardarelli già in condizioni gravi morì attualmente l'ambulanza è ancora sotto sequestro in attesa delle decisioni della procura intanto il legale dell'autista l'avvocato del foro di Isernia Gianni Perrotta assicura la vicenda si risolverà positivamente per il mio assistito i carabinieri di Isernia hanno attuato uno specifico servizio finalizzato al contrasto del fenomeno delle soste selvagge a tutela delle persone diversamente abili che trovando occupati da utenti insensibili che non hanno diritto alla sosta negli stalli dedicati per poter parcheggiare le proprie autovetture svolgere le proprie faccende recarsi nei vari luoghi della cittadina pentra molto spesso sono costretti a ricorrere alla richiesta di intervento al 112 in particolare nel corso dell'attività i militari hanno controllato 45 automezzi ed elevato 10 contravvenzioni al codice della strada per soste arbitrarie proprio nei parcheggi riservati ai disabili. Adora cambiamo argomento debito di 86 milioni di euro per i contributi previdenziali post sisma sospesi agli ex dipendenti Asarem. Ancora scintille tra Iorio e Thomas corretto umanamente e istituzionalmente l'accusa dell'ex governatore. Ho sollevato l'esistenza di un problema non generato da questo governo chiederò la rateizzazione e la replica del presidente della giunta. Sentiamo Valentina Ciarlatti. 86 milioni di buco nella sanità non si parla d'altro in questi giorni e lo scontro politico tutto interno alla maggioranza è sempre più infuocato. La bomba l'ha sganciata il presidente Donato Toma durante l'ultimo consiglio regionale puntando il dito senza mezzi termini verso Michele Iorio. Ma cosa sono questi soldi che nulla hanno a che vedere con i 60 milioni che hanno invece determinato il noto deficit per cui la regione è ancora in rosso? Sono quelli che mancano nelle casse dell'Inps e relativi ai contributi dei dipendenti delle ex Asle della provincia di Campobasso. Quei contributi vennero sospesi grazie a una legge approvata ad hoc per il Molise dal governo Berlusconi. Era il periodo del post terremoto e venne deciso su input di Iorio di far beneficiare i dipendenti del comparto Asle della busta paga con l'importo all'ordo. La restituzione di quei soldi, 86 milioni appunto, 50 di contributi e 30 di mora è finita al centro di un contenzioso vinto dall'Inps fino in Cassazione. La mia colpa sarebbe stata quella di aver provveduto a ottenere un vantaggio seppur temporaneo per cittadini e imprese vista l'attività produttiva stagnante su tutto il territorio regionale a causa proprio delle calamità, spiega Iorio in una nota, ebbene sì è tutto vero e lo rifarei e quando si entrò nella fase della restituzione dei contributi ho fatto una battaglia verso il governo nazionale. Sostanzialmente Iorio puntava a fare in modo che il Molise ottenesse lo stesso trattamento di Umbria e Marche, cioè che non restituisse quei soldi e ora attacca Toma che a suo dire non si sarebbe nemmeno presentato a settembre all'incontro con il direttore Inps Tridico e l'ex DG Asrem Sosto volto a definire una transazione. Non so se Toma mente sapendo di mentire oppure per sfogare tutta la sua credine nei miei confronti tira fuori la sua scorrettezza umana e istituzionale annunciando prima in consiglio e poi sulla stampa a debiti di responsabilità inesistenti al mio governo. Non si è fatta attendere la replica dell'attuale governatore, non critico la scelta amministrativa di Iorio ha detto, dico solamente che quella decisione non è stata condivisa con l'Inps, non sono mai stato invitato all'incontro con Tridico ma ho in mente di parlarci e di chiedere una transazione. In consiglio ho sollevato un problema che non è stato generato da questa amministrazione e questa questione va risolta, è emersa per far capire il lavoro volto a far quadrare i conti che stiamo facendo. Questa battaglia tra i due big del centro-destra molisano sempre più accesa finirà con l'implosione dello schieramento già traballante? Dopo l'incontro di ieri al consorzio dipendenti Unilever sono in attesa del vertice a Campobasso tra regione e azienda annunciato da Toma per lunedì pomeriggio. Intanto il Vescovo Cibotti domenica celebrerà messa davanti ai cancelli dello stabilimento. Bisogna assolutamente scongiurare una nuova ITR. Nicola De Santis. I dipendenti della Unilever sono giunti al quinto giorno di sciopera oltranza. Nonostante la stanchezza per il presidio H24 ed il salasso economico per la rinuncia ai giorni di lavoro retribuito hanno deciso di proseguire compatti nella protesta. I prodotti home care iniziano a scarseggiare nella distribuzione. L'azienda dunque gradirebbe iniziare le trattative con i lavoratori senza il blocco della produzione a Pozzilli. Una richiesta che i dipendenti hanno giudicato irricevibile. Ieri sera hanno ricevuto intanto la visita del Vescovo della Diocesi di Sernia Venafro Camillo Cibotti il quale ha promesso di celebrare messa domenica pomeriggio davanti ai cancelli dell'azienda. Intanto i lavoratori hanno incassato anche la solidarietà delle strutture che sorgono nella zona. Una vicinanza non solo morale ma anche concreta con la donazione di pasti e bevande caldi per i manifestanti. L'incontro di ieri a Pozzilli nella sede del Consorzio Industriale è servito a rasserenare parzialmente gli animi. Lunedì in regione i vertici della Unilever dovrebbero incontrare il governatore per chiarire la posizione della multinazionale rispetto allo stabilimento molisano. A rischio, lo ricordiamo, ci sono 500 posti, 500 famiglie che traggono sostentamento dal lavoro in Unilever. Un patrimonio che il Molise non può permettersi di perdere e che le istituzioni hanno il dovere di tutelare. Parliamo della Fiat di Termoli nell'incertezza dei contratti di solidarietà che saranno applicati agli operai per consentire l'ammodernamento delle linee produttive. La FIM CISL ha risposto alle accuse di SOA e USB. Abbiamo sempre agito per sostenere i lavoratori, ha detto Riccardo Mascolo. Sentiamo Giovanni Cannarsa. I contratti di solidarietà che saranno avviati in Fiat per permettere la modernizzazione delle linee produttive non hanno messo tutti d'accordo. I sindacati non ammessi alla contrattazione hanno puntato l'indice contro chi avrebbe accettato passivamente le decisioni di casa Fiat. Ma c'è chi come la FIM CISL rispedisce al mettente le polemiche. La FIM e non solo la FIM, ma tutte le organizzazioni firmatari di quel contratto di solidarietà che a nostro avviso e ritengo, ribadisco al nostro avviso, è uno strumento, uno dei migliori o il migliore che oggi abbiamo potuto mettere sul tavolo per poter rappresentare i lavoratori in un momento così particolare, cioè per la fermata a causa della ristrutturazione che ci sarà all'interno di Termoli 3, del famoso motore ottovalvole, che prenderà il posto del motore ottovalvole. Quindi riteniamo che da buoni sindacalisti, diciamo contrattualisti, quindi né avvocati e né commercialisti, ma sindacalisti che contrattano, come dire, per rappresentare al meglio dei lavoratori, con degli strumenti che abbiamo a disposizione. Mascolo ribadisce che per il momento non c'è stato nessun dimensionamento del personale, coloro che sono usciti dall'azienda l'hanno fatto sfruttando, la quota 100. Se parliamo appunto delle uscite che ci sono state entro la fine del 2019, noi l'abbiamo detto anche, abbiamo fatto un'assemblea in merito e abbiamo parlato anche di questo. Le 239 uscite che ci sono state sono dovute al fatto della famosa quota 100, la legge che è stata fatta dal governo precedente, e quindi tutti quei lavoratori che man mano raggiungevano i requisiti per andare in pensione. Chi ha voluto, su base volontaria, è andato in pensione. Addirittura nell'ultimo periodo, dello scorcio, della fine del 2019, l'azienda ha anche incentivato magari alle uscite, insomma, che erano anni che non succedeva, accadesse una cosa, accadeva una cosa del genere. Quindi ribadisco, tutte queste uscite che ci sono state non è dovute a causa di ristrutturazione e quant'altro dell'accordo che abbiamo fatto. È dovuta a causa di un accordo, diciamo, sulla quota 100, una legge fatta dal governo. Un ultimo punto dolente, l'OSB e il SOA avevano denunciato una situazione da figli e figliastri con l'avvio dei contratti di solidarietà. Si potrebbe rischiare di far lavorare di più alcuni dipendenti a discapito di altri, ma anche in questo caso la Fimcis ribadisce quel che sarà il suo impegno. Non mi stanco mai di dire che grazie ai pluriprodotti che da anni costruiamo in questo stabilimento, ha fatto sì che ammortizzare, passatemi il termine, diciamo il ridimensionamento dei prodotti, dei volumi di produzione di alcune reparte. Per esempio, prendiamo l'esempio ultimo dell'unità cambi. I cambi stiamo soffrendo sotto l'occhio di tutti, abbiamo fatto le domande e non solo alla direzione, e non è vero che non ci interessiamo, alla direzione personale, alla direzione di produzione del futuro del cambio, perché ci interessa, perché ci sono tanti lavoratori. Però il ridimensionamento di questi volumi ha fatto sì che grazie alle altre unità lavorative, quindi i motori, sono riusciti, come dire, a spostare dei lavoratori su queste aree e dare la possibilità di fare il meno cassa integrazione possibile, ma comunque di lavorare tutti quanti. Nuovi corsi di laurea per valorizzare il territorio della provincia di Isernia e l'idea, l'iniziativa dell'assessore regionale Roberto Di Baggio, sentiamo Cristina Niro. Il 3 febbraio a Campobasso, l'Unimo, le inaugura il suo anno accademico. Il tema al centro della cerimonia è quello dell'archeologia e degli studi storici e paleontologici. Sarà presente, infatti, l'illustre archeologo Salvatore Settis, presidente del Consiglio Scientifico del Louvre. Una scelta importante e preziosa, quella operata dal rettore brunese, che ha inteso accendere i fari sull'enorme patrimonio del Molise e che ha richiamato l'attenzione dell'assessore regionale Roberto Di Baggio, che sottolinea, appunto, l'unicità del patrimonio culturale della nostra regione nel mondo. Su questo, scrive in una nota l'esponente della Giunta Toma, bisogna imbastire progetti ambiziosi di riscatto di un intero territorio per troppo tempo abbandonato a se stesso. E a questo punto Di Baggio rileva il collegamento ideale con il territorio della provincia Pentra, per esempio Castel San Vincenzo, Pietrabbondante e con il Museo Paleolitico, che, dice l'assessore, hanno un enorme potenziale ancora inesplorato e su cui implementare progetti di portata nazionale e mondiale grazie anche al preziosissimo ultimo rinvenimento umano, alla presenza di innumerevoli testimonianze di epoca romana e sannitica. E dunque l'annuncio per l'assessore, il territorio di Isernia, culla naturale in cui far crescere percorsi di studio e specialistici di alta formazione, è quello più vocato all'insediamento di nuovi corsi di laurea che vadano proprio nella direzione della scoperta, della ricerca e della specializzazione in materie archeologiche, culturali e pasagistiche. Progetto su cui Di Baggio è già al lavoro per far sì che l'offerta formativa e universitaria migliori e sia equamente distribuita sul territorio e calibrata rispettando la naturale vocazione della regione. Sul potenziamento dei corsi di laurea ad Isernia è molto critico il Partito Democratico, critico nei confronti del sindaco Giacomo D'Apollonio, per l'Adachille nulla di quanto annunciato dal sindaco è stato realizzato, l'Adachille si riferisce al potenziamento dei corsi di laurea ma anche all'attivazione del CUP e della Guardia Medica nel centro storico. Sentiamo l'esponente del Partito Democratico, intervistata da Nicola De Santis. Il Partito Democratico di Isernia chiede l'immediato potenziamento dei corsi di laurea all'interno dell'ex seminario Vescovile di Via Mazzini al fine di ridonare ossigeno all'agonizzante economia del centro storico. Maria Teresa d'Apollonio sollecita il sindaco di Isernia di intervenire. Noi abbiamo previsto una programmazione che riguardasse nuovi corsi di laurea, sempre delle professioni sanitarie, e il potenziamento dell'attuale corso di infermieristica con altri studenti perché la sede di Isernia è molto ampita nel centro-sud e fra le più richieste. Per noi è fondamentale avere questa presenza di eccellenza universitaria nella città di Isernia anche perché è l'unica al momento, che ha circa 310 iscritti. Quindi non capiamo perché la regione Molise, quindi in particolare anche l'assessore alla formazione che ha fatto delle dichiarazioni precise, degli impegni su questo argomento, e il comune di Isernia non sollecitino le istituzioni, a partire da essi, per potenziare questo polo universitario dalle professioni sanitarie. Adesso siamo ancora solo con le scienze infermieristiche e con una serie di questioni. Quindi noi vogliamo rilanciare questo polo delle professioni sanitarie. Per la D'Achille sono molteplici i corsi di laurea che potrebbero essere attivati per potenziare l'offerta ed indurre così i diplomati a proseguire gli studi a Isernia. Ma sicuramente sarebbe giusto riportare qui beni culturali perché questo corso di laurea era stato chiesto dalle amministrazioni precedenti centrosinistri è ottenuto e fu tolto, scippato alla città di Isernia, alla sede di Isernia e attualmente sta a Campobasso. Quindi sicuramente questo. Ma sicuramente anche gli attuali corsi che sono a pesca, partire da informatica che è veramente un fiore all'occhiello da tutti i punti di vista e la stessa biologia, potrebbero avere delle sedi nella città di Isernia, centro storico e nella città di Isernia per gli stessi corsi di laurea o anche altre specializzazioni e master. Questo è dovuto ed è urgente per parlare di Isernia come città universitaria. Per il Partito Democratico l'amministrazione comunale di Isernia non ha mantenuto le promesse sul centro storico. La guardia medica è ancora chiusa per non meglio precisati lavori di ristrutturazione dei locali. Stesso dicasi per il centro unico di prenotazione degli esami della ASREM, cheppure doveva essere trasferito in via Mazzini. Guardia medica anche qui è trascorso un anno e mezzo, sembra che i lavori strutturali siano terminati, manca la connessione a internet, però oggi è tutto chiuso. La guardia medica ha un impegno preciso di farla tornare qui, preso dall'ASREM e dalla regione molise. Non capiamo perché ci sia questo silenzio, silenzio colpevole riguardo a questo. Quindi anche su questo noi chiediamo spiegazioni e pretendiamo che questo venga subito aperto. Insieme alla guardia medica ci doveva essere anche il CUP. Queste erano le nostre previsioni della loro amministrazione centro-sinistra. Stiamo aspettando e certamente non ci fermiamo qui, andiamo avanti, sia per far ritornare questa programmazione, questa città universitaria che contenga che sia la Sapienza, che sia l'Università di Molise e anche per i servizi sanitari dell'ASREM. La Commissione per la toponomastica del Comune di Sernia, presieduta da Pasquale Damiani, ha esaminato le richieste di intitolazione di vie e piazze giunte al Comune. Dopo un'analisi delle domande, la Commissione ha accolto favorevolmente una petizione sottoscritta dai centinaia di cittadini che negli anni 50 e 60 hanno avuto modo di frequentare l'oratorio dei Salesiani, diretto dall'indimenticabile Don Di Massa, proponendo quindi al Sindaco e alla Giunta di intitolare l'attuale rampa Mazzini proprio a Don Giuseppe Di Massa. Una decisione adottata all'unanimità che ha tenuto conto anche del fatto che sulla rampa non vi è alcuna abitazione e pertanto nessuno sarà costretto a cambiare residenza sui documenti. La Commissione ha anche proposto di intitolare l'attuale piazzale antistante della struttura della Gea Medica a Enrico De Masi, fondatore dello stabilimento termale dell'Acqua Solfurea. Ora tutto passa nelle mani del Sindaco e dell'Assessore Cesare Pietrangelo per gli atti formali. Ora andiamo a Campomarino, si chiama Clean Saturday, l'iniziativa messa in campo per ripulire le zone più sporche del territorio. Iniziativa seguita per noi da Giovanni Cannars, vediamo. Tutti insieme per la pulizia del paese, l'amministrazione comunale di Campomarino lancia l'iniziativa Clean Saturday. La pulizia delle zone più sporche del paese è stata avviata ieri mattina e si ripeterà ogni ultimo sabato del mese all'insegna della sensibilizzazione e nella speranza di coinvolgere più gente possibile. Ormai ci siamo dati come un impegno con le due associazioni, l'ambiente Basso Molise e con l'AISA. Abbiamo stabilito che una volta al mese, l'ultimo sabato del mese, di volta in volta andremo a individuare dei siti, quelli un po' più che necessitano di più attenzione e daremo il nostro contributo per sensibilizzare affinché certe situazioni di scariche vengano sempre bene sul nostro territorio. Naturalmente il progetto che abbiamo fatto insieme alle due associazioni non riguarda solo la pulizia delle discariche sul territorio ma ci saranno anche dei corsi di formazione che in man mano andremo a stabilire le date con le scuole e i cittadini. Ieri alcuni assessori, i rappresentanti delle due associazioni, Ambiente Basso Molise e AISA, si sono dati appuntamento in contrada a Ramitelli. Sono stati consegnati kit e materiali per la raccolta e poi tutti insieme a ripulire l'immondizia che da quelle parti viene abbandonata dovunque. Abbiamo purtroppo non solo il comune di Campomarino ma tutto il Basso Molise, ricolmo di rifiuti e questa volta abbiamo trovato persone che ci hanno dato una mano, il comune si è messo a disposizione e quindi qui saremo, in questo comune saremo ogni sabato di fine mese per pulire il territorio perché noi lo amiamo il territorio, non vogliamo che resti abbandonato. Sono anni che cerchiamo di fare un'area protetta ma la regione non risponde, non so che cosa facciano lì, probabilmente stanno bene al calduccio. Noi amiamo il nostro territorio. Clint Saturdri ha messo anche insieme tutte le parti politiche di Campomarino. Siamo molto vicini a queste problematiche e quindi ci sembrava doveroso partecipare a queste iniziative. Condividiamo perfettamente l'idea ciclicamente di organizzare situazioni del genere per avvicinare la cittadinanza. Bisogna essere un pochino più responsabili e consapevoli del degrado che ci circonda purtroppo. Noi abbiamo sempre dimostrato grande apertura e ci aspettiamo questo anche dalla maggioranza. Si lavora per il bene del paese, sicuramente. Bene, questo era il nostro ultimo contributo. Ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il meteo. Previsioni del tempo per sabato prosegue l'afflusso di correnti umide che mantengono in vita una spiccata variabilità. Venti deboli, mari poco mossi. Queste le temperature nei maggiori centri della regione. Campobasso minima 8, massima 14 gradi. Serna temperature comprese tra i 7 e i 12 gradi. Termoli minima 11, massima 17 gradi. Benafro minima 8, massima 12 gradi. Bene, l'informazione torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante. Ora linea la regia, consigli per gli acquisti. Poi c'è un'ampia pagina sportiva con il Campobasso, l'Agnone, il Vasto Girardi, il basket e il futsal di serie A2 e di serie B con una clip davvero interessante realizzata dai nostri tecnici. A tra poco. Lo sport, il calcio di serie D nel weekend, la 22esima giornata. Con la grafica vediamo gli incontri in programma. C'è un anticipo, quello di domani pomeriggio tra Chieti e Matelica. Big match di giornata. Gli altri gare che si disputeranno invece domenica. Atletico-Fiugi, Porto-Santelpidio, Campobasso-Pinetto, Giulianovo-Limpiagnonese, Iesina-Vizzano, San Marino-Montegiorgio, San Nicolore-Canatese, San Giustese-Vastese, Vasto-Girardi, Tolentino. E dunque il Campobasso si è atteso domenica dal big match delle Romagnoli contro il Pineto. Squadra forte, avverte l'attaccante Andrea Zammarchi. Dobbiamo dare il 100%. Sentiamolo in questa intervista realizzata nelle scorse ore per noi da Franco Presutti. Andrea Zammarchi, attaccante del Campobasso. Andrea, domenica col Pineto. Ecco, una gara per continuare questa striscia, ma anche per avere maggior pubblico al Selvapiana. Sì, sicuramente vogliamo continuare questi risultati utili che stiamo facendo e vogliamo proseguire al massimo. Sarebbe fondamentale l'aiuto del nostro pubblico a sostenersi per tutta la partita. Li aspettiamo numerosi sotto la curva nord. E non solo, direi. No, non solo, in tutto lo stadio ovviamente. Senti Andrea, è importante la vittoria a basto perché in dieci vi ha dato ancora più consapevolezza delle vostre forze. Sì, è stata fondamentale per continuare la nostra striscia positiva e per darci ancora più consapevolezza di noi, della nostra forza. Una grande rimonta, 13 risultati utili consecutivi, 10 vittorie, 3 pareggi. Io direi ancora per il momento non guardare al notarisco, ma preoccuparsi partita dopo partita per il e per i vostri risultati soprattutto. Esatto, noi la pensiamo come ha detto lei e vogliamo continuare a crescere, a migliorare. Quello che faremo da qui alla fine sarà una cosa guadagnata perché da come eravamo messi tre mesi fa nessuno si aspettava una posizione del genere a questo punto e siamo molto contenti soddisfatti di questo percorso e cercheremo di fare il massimo da qui alla fine. Un'ultima cosa sul Pineto che viene al Selvapiana domenica, squadra ostica in zona playoff, poche sconfitte per gli abruzzesi, dunque una gara da non sottovalutare e davvero da affrontare con determinazione credo dall'inizio. Sì, sicuramente è una squadra forte, l'abbiamo già vista l'andata dove siamo usciti sconfitti in casa loro e dovremo dare tutti il 100% dal primo minuto alla fine per poter avere un risultato a nostro favore. Allora parliamo dell'Olimpia agnonese che domenica sarà di scena Giulianova e Granata vogliono allungare la striscia positiva per continuare a sognare i playoff. Tra i protagonisti del momento, positivo degli altomolisani, c'è senza dubbio il centrocampista dal gol facile, Bubacar Diarrà. Sentiamo. Tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro gare del 2020. Un inizio sfavillante per l'Olimpia agnonese che a Giulianova punta ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi contro una squadra con l'acqua alla gola e determinata a far rispettare il fattore campo. Mister Pizzi all'imbarazzo della scelta, squadra al completo e in grande forma. Davanti il ballottaggio a maia a costa con lo spinungone centravanti che scalpita per tornare a recitare un ruolo da protagonista dopo aver smaltito gli infortuni muscolari. Possibilità di scelta anche negli altri reparti, in difesa e al centrocampo, le alternative non mancano. Ora ci sono 20 titolari, merito della società, del presidente Marco Colaizzo che ha azzeccato gli acquisti di Cembrini e tra i più in forma c'è Bubacar Diarrà tra le rivelazioni di un agnonese che non è ancora sazia e che vuole arrivare in alto. Devo iniziare a fare tutto bene ancora, quindi non ho fatto niente ancora. Devo fare di più, non abbiamo fatto niente. La squadra sta crescendo, dobbiamo continuare a crescere di nuovo. Questa partita secondo me è già finita. Pensiamo domenica prossima a Giulianova. Così possiamo andare avanti. Ti arresta da una settimana particolare questa per te? Dalle sale cinematografiche con il film di Checco Salone al gol di oggi. Dove ti trovi messo? Mi trovo al campo, perché io sono calciatore e non sono autore. Il film è già passato, quindi sto pensando a fare bene e sto bene qua. Il prossimo 3 febbraio alle 18 nella Sala Coni di Isernia, Palazzo in via Berta, verrà assegnato al Vasto Girardi il premio USSI 2019 conferito dal gruppo regionale Molise con lo scopo di sottolineare l'impegno e la serietà delle componenti sportive regionali al di là anche dei risultati raggiunti. In questo caso la squadra molisana non solo ha stravinto il torneo d'eccellenza ma ha anche dimostrato che i piccoli centri riescono ancora ad esprimere grandi passioni e a raggiungere traguardi prestigiosi nonostante le difficoltà come l'indisponibilità del proprio terreno di gioco ancora in fase di ristrutturazione che ha costretto la squadra di Mister Farina a giocare al Civitelle di Agnone le gare casalinghe. Nel corso della cerimonia di lunedì verrà anche assegnato un riconoscimento al giornalista sportivo Antonino Morici, Isernino, da anni firma della Gazzetta dello Sport dunque appuntamento lunedì alle 18 a Isernia a Palazzo Berta. C'è un pezzo di Molise nella nuova vastese che punta a risalire dopo l'esonero di Marco Amelia collaboratori del nuovo allenatore Massimo Silva sono i molisani. Roberto Barrea per lui si tratta di un ritorno a vasto ha già lavorato bene visto che lo hanno richiamato Barrea che svolgerà il ruolo di preparatore atletico e di Simone Santone giovane tecnico e figlio d'arte il papà Giovanni è stato di S del Campobasso e di tante altre formazioni. Ed ora la promozione ventunesima giornata vediamo gli incontri in programma nel weekend ci sono ben cinque anticipi e sono Ururi Trivento vediamo se parte la schermata eccola qui Ururi Trivento dicevo poi Carovilli Maronea e ancora Ripa Limosani Donche Isagnone Spinete Campomarino Termoli 2016 Biccari tutte le altre gare si giocheranno invece regolarmente domenica pomeriggio. Ed ora il futsal di Serie A2 il raggruppamento C in campo tutte domani le formazioni diciassettesima giornata vediamo con la grafica gli incontri in programma il circolo la nebbia Cus Molise sarà di scena a Rossano in Calabria contro il Real Rogit tutte le altre gare le vedete nella schermata fischio d'inizio tra Real Rogit e circolo la nebbia Cus Molise alle 15. E poi il futsal di Serie B il raggruppamento G vediamo gli impegni delle molisane Chaminade in casa contro Frittai in Macuila mentre in trasferta lo Sporting Venafro sul campo del Capurso. E allora vediamo come si sono preparate le molisane che domani dovranno scendere in campo in Serie A2 e in Serie B di futsal nel servizio che è stato realizzato da Vincenzo Ciccone per il circolo la nebbia Cus Molise ci sono anche le dichiarazioni del giocatore più importante dei campobassani vale a dire Barichello. Sentiamo Ciccone. Primo confronto del mese di febbraio per le tre molisane impegnate nei tornei nazionali di futsal. In A2 il CLN Cus Molise deve recarsi in Calabria a Rossano per far visita ad un Real Rogit che è terzo a quota 34 a tre lunghezze alla vetta e con sei punti di margine sul quintetto di Sanginario che tra l'altro dovrà fare a meno di Turek in Croazia con la nazionale slovacca Verlencia fermato dall'influenza, Marro e dello squalificato Ferrante. Match d'apertura del diciassettesimo turno. La gara è prevista con calcio all'inizio alle ore 15 con due punti ancora mancanti per la quota salvezza indicata dal proprio tecnico Sanginario i Cussini vorranno dare il tutto per tutto in campo potendo contare anche sul rientro del brasiliano Barichello. Siamo partiti in queste stagioni con l'obiettivo principale che sarebbe la salvezza e sì siamo a due punti però in mezzo a questo campionato abbiamo capito che era possibile fare qualcosa in più e questo adesso che stiamo cercando di fare. Sicuramente ancora rimane la salvezza che mancano assolutamente questi due punti che speriamo di prendere adesso fuori casa che comunque non sarà così una partita molto semplice e poi poco a poco iniziamo a cercare di fare qualcosa di più bello e questo è perché non il playoff. In Serie B, forte dei due successi consecutivi, lo Sporting Venafro, senza però Leo Melfi sarà ospite del quintetto leader del Futsal Capurso. Febbraio sarà un mese a crocevia per i bianconieri che avranno tra l'altro anche l'appuntamento del terzo turno del Coppa Italia di Serie B in casa del Terracina, occasione per poter approdare alle Final 8 calcio all'inizio sul match alle ore 16. Situazione di emergenza invece per la Chaminade che alle 17 al Pala Selvapiana dovrà vedere se la contro l'Aquila fa la nido di coda del torneo il quindetto del tecnico Tavone, squalificato al pari di Canzio, Pablo e De Lauro dovrà fare a meno anche di Wiggles impegnato con la nazionale tedesca ma sarà chiamato a vincere per riprendere subito la marcia e poter puntare al primato attualmente distante a sei lunghezze. E il circolo La Nebbia Cus Molise viaggia e ve le spiegate verso la salvezza la nostra redazione ha realizzato una clip montata da Luigi Putalivo con i momenti più importanti di questo primo scorso di stagione. Non perdete mai! Non perdete mai! Non perdete mai! Vai vai vai! Non perdete mai! Tra nullità sui si sia lunghezze sono ci resta ci resta ci resta ci resta da Grazie per la visione 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 E' il match domenicale Per la Magnolia Campobasso contro Virtus Cagliari Dunque ci sarà domenica la gara in un sabato Con palla a 2 al 18.30 Ed ora ascoltiamo le impressioni del presidente della Magnole a Campobasso, Antonella Palmieri, ospite ieri sera di Franco Presutti a Molise Sport. Dobbiamo pensare partita dopo partita, questo è il messaggio che il presidente lancia alla squadra. Sentite. Un terzetto in classifica, tra un po' vedremo anche la schermata, con però la Spezia che ha giocato 15 gare e non 16, poi però c'è lo scontro sabato. C'è lo scontro diretto sabato. La Spezia faenza, quindi speriamo che per voi quale risultato andrebbe meglio? Ma vabbè, io quando ho guardato un attimo la classifica ho detto sarebbe bello che la Spezia vincesse, però in realtà noi pensiamo, adesso noi dobbiamo concentrarci partita per partita e pensare solo ed esclusivamente a noi. Fate come Campobasso, Antonella, loro pensano solo a loro, quindi adesso... Solo ed esclusivamente a noi. Sì, l'abbiamo intravista, grazie Luigi. Allora, la Spezia, Magnolia, la mettiamo seconda perché ha un vantaggio, quindi diciamo la Spezia, Magnolia, la Molisana e Faenza, 26 con la Spezia, gli ha giocato 15 gare, mentre Faenza e Magnolia 16 e vediamo la Virtus Cagliari penultima. Vabbè, comunque, dai, alla fine... Beh, tutte le partite comunque sono... Consideriamo che le squadre... Penultima perché non considero più High School, ovviamente, quindi Virtus Cagliari. Quando giocano contro di noi e soprattutto quando giocano al palazzetto, diciamo che si galvanizzano anche gli avversari, insomma, difficilmente abbiamo trovato squadre anche in posizioni basse della classifica che si sono in qualche modo mostrate giustamente arrendevoli, quindi è giusto che sia così, però diciamo che forse, non so se il pubblico, il fatto di poter giocare davanti a tanta gente, il fatto di giocare con la prima in classifica, comunque tendono a fare delle prestazioni sempre al di sopra anche di quanto, diciamo, della media delle loro performance, per cui noi non sottovalutiamo nessuno e pensiamo a giocare partita per partita, quindi anche domenica le ragazze, sono certe, scenderanno in campo con il giusto impegno e la giusta determinazione. Chiudiamo con il basket di Cigold, quattordicesima giornata, incontro casalingo per il Globo Isernia, domani contro Forio, palla due alle 16.30, in trasferta invece domenica pomeriggio, palla due alle 18, il basket Venafro contro New Caserta. Bene, è tutto anche con l'informazione sportiva, grazie per averci scelto, buon pomeriggio, arrivederci.